Oddio! Sta di fatto che siamo arrivati, guardate ragazzi ce l'abbiamo lì Ragazzi, quest'oggi si scrive la storia Bene ragazzi, quanti trovo bentornati sul mio canale Ragazzi, quest'oggi voglio fare un video pazzo, ma proprio pazzo nel vero senso della parola Ho visto questa challenge all'estero dove tipo le persone vanno a vedere la squadra che trovano nei pacchetti E quindi ho detto, ma perché non provare a fare anche io un video del genere? Quindi adesso ci sposteremo sulla nostra console, sulla nostra Xbox Avete presente che nei pacchetti, oltre ai giocatori, ai contratti eccetera eccetera, trovate anche i loghi delle squadre, no? Tipo lo stemma del Milan, lo stemma dell'Inter, cose di questo tipo Lo stemma che troveremo, il primo stemma che troveremo nel pacchetto, sarà dove andrò a fare capodanno Vedremo se riuscirò a convincere qualcuno, altrimenti ragazzi vedrò cosa fare E mi raccomando ragazzi, qua sotto nei commenti scrivete il posto più lontano che avete visitato voi Andiamo quindi a spacchettare, tra l'altro ho venduto tipo mezza squadra per i vari ZW Visfood Oppure appunto anche questo video perché qualche pacchettino già ce l'avevo Però ragazzi andiamo qua con i 7500 crediti, senza shoppar ovviamente ragazzi ci manca Già chissà quanto dovrò spendere Andiamo a vedere per il primo quindi, andiamo a vedere per il primo Ti immagini che tipo trovo il walk out del secolo, Ziller però non ci importa perché tanto La cosa importante ragazzi è come sempre andare a cercare i loghi Allora qui Franco Sessegnon, vale qualcosa tra l'altro non vale assolutamente nulla Niente, c'è tipo forma fisica, vari allenatori ma un cavolo di niente Andiamo col secondo, che ansia raga, che ansia non potete immaginare Andiamo avanti, andiamo avanti, attenzione, bandierine? No, aspetta S, Nakajima, vediamo se c'è sotto qualcosa Vediamo un attimo, un attimo, un attimo Niente neanche qui, Rangers, Gatto, Falco, Solki Air Ma niente neanche qui ragazzi, ma è possibile, non si riescono a trovare questi loghi Dobbiamo soprattutto trovare un logo, ma dobbiamo sculare perché non voglio finire in Russia Questo è poco ma scontato, penso che nessuno vorrebbe Andiamo avanti, bandierine, è abbastanza lento, non l'ho ancora capito Siamo nel 2020, fra un po' non nemmeno ho capito Pulisic, madonna mia, prendo i collassi, crediti Va bene dai, muro È impossibile trovare i loghi Ma ragazzi, veramente è impossibile trovare i loghi delle squadre? Cioè, faccio prima a trovare Cristiano Ronaldo, fra un po', ragazzi Andiamo avanti, andiamo avanti Vi tengo anche a voi col fiato sospeso Vediamo qui ATT Soares Bello schifezzone Vediamo un attimino qui in questo pacchetto Oddio Lo stemma del Cardiff, raga Lo stemma del Cardiff È in Galles, se non erro Ok, sì ragazzi Sì, sì, sì In Galles Vabbè, cioè, ci sta Ci sta, ci sta alla grande Capodanno in Galles Con Mr. Gareth Bale Signori miei Rendiamola anche attivo E niente C'è Sotto questa luce paradisiaca Ragazzi Si vola Si vola in Galles A Cardiff Ci siamo ragazzi Finalmente Siamo in aeroporto Road to Cardiff I miei compagni di viaggio Che sono venuti in questa impresa pazzesca Quindi niente Adesso andiamo a prendere l'aereo Speriamo che Possa andare tutto al meglio E ci vediamo dopo sul volo Ragazzi Mi ero dimenticato l'obiettivo Sta di fatto che Siamo arrivati Ho questo cappello Da Michael Jackson Siamo a Bristol Qui adesso ragazzi Dobbiamo prendere la novetta E volare però Correndo In questo senso Verso Cardiff Viaggio ci sta E' andato E' andato tutto bene Adesso Verso Cardiff Ok ragazzi Siamo Arrivati a Cardiff Finalmente ce l'abbiamo fatta Abbiamo dovuto prendere anche un altro treno Sto morendo di fame Sento il jet lag Con un'ora e mezza E niente Si va a mangiare E poi penso che per oggi Crollo qua Non ce la faccio ad andare allo stadio Mangia il mamas Al mamas kebabas Ragazzi Lo so che non c'entra Suotissimamente niente Ma Guardate quanto Ben di dio Ragazzi Siamo nella nostra Casa Affittata Io vi mando la sfida 20.000 mi piace E vi faccio L'house Tour Detto ciò Che dire Sistemiamo le cose Sistemiamo le cose E poi Allo stadio Ci andiamo Tanto abbiamo visto che non è tanto distante Ci andiamo comunque Tranquillamente Ma aspettatevi tantissimi video Da Cardiff Buongiorno ragazzi Oggi si va Allo stadio Ieri abbiamo fatto un po' di giri Oggi vi porterò comunque anche con me Prima Dello stadio Vi faccio vedere un pochino Cardiff Guardate Che cosa Ho comprato ieri Siamo andati in questo negozio Che era pieno di pop E Raga Ho trovato il Gotenks Super Ghost Kamikaze Attack Ce l'ho anche tatuato Quindi Non potevo lasciarlo Anche perché comunque era Una Limited Edition E tra l'altro Su Instagram Ho messo le stories Con le pop Tipo dei calciatori ragazzi Io non sapevo l'esistenza di queste cose Fatemi sapere Se anche a voi comunque piacciono Le Funko Pop Comunque Direzione Stadio di Cardiff Dove noi giuventini abbiamo Dei tristi ricordi Good morning Cardiff Good morning everyone Comunque ragazzi Cioè Non fa nemmeno freddo Si sta veramente bene A me piacciono un sacco Queste case tipo qua Molto Inglesi E' un pochino sporca Però Cardiff E' la peferia E' la peferia No infatti si Ieri siamo andati in centro Ragazzi Come vi ho già detto Abbiamo preso un sacco di robe E siamo andati a fare colazione In un posto bellissimo Dove io tra l'altro Ho fatto colazione Con un panino Con i galapenos Per farvi capire il posto Adesso ci riandiamo Perché appunto Ci è piaciuto a tutti quanti Ve lo faccio vedere anche a voi E poi dopo Andiamo al Principality Stadium No Principality Stadium Che è lo stadio Dove la Juve Ha perso la finale di Champions Ok ragazzi Il panino di cui vi parlavo E' questo Che l'ho preso anche io E' andato in un posto Fighissimo Aprilo Aprilo Lo farò vedere ragazzi Qua si fa la colazione Con il galapeno E' buonissimo E' buonissimo sto panino Adesso E' buonissimo Adesso Taste test Bollente sarà Wow E' buonissimo E c'è anche Un bel cappuccino Croccante Ragazzi Guardate un po' Cosa abbiamo beccato Winter Wonderland E' una specie di parco giochi Che viene aperto Durante il periodo natalizio Infatti potete vedere Tutti i giochini Tutte le cose varie Poi lì In questo posto Ho messo anche la storia Su Instagram Praticamente si comprano I marshmallow E si va Lì c'è il fuoco E si va A rosolarli Qua c'è il negozio Lì infatti si vendono I marshmallow E poi si va Si va qui E appunto Come nei film Americani Ci si mette A fare i marshmallow Sul fuoco Poi niente Lì c'è la ruota Panamica Qui c'è Qua c'è il percorso Di pattinaggio Il percorso di pattinaggio E qui siamo comunque Vicino allo stadio No? Sì Qua siamo vicino Siamo a 10 minuti a fine Dallo stadio Guardate la ruota che bella Col municipio dietro Sì sì Cardiff è veramente Un bel posto ragazzi Oh ragazzi Neanche a farlo apposta Kick off the championship Wales Italy Siamo finalmente arrivati Al principality stadium Non è lo stadio principale Di calcio Del Del Cardiff Perché comunque Il Cardiff Ha un suo stadio proprio Però questo È molto più famoso Come vi ho già detto Hanno giocato anche La finale di Champions Guardate ragazzi Ce l'abbiamo lì Cioè sapere che qui sono entrati Giocatori come Cristiano Ronaldo Come tantissimi altri Fa una certa Impressione Fa un certo effetto È gigantesco È gigantesco Mi sembra molto più grosso Dello stadio olimpico Di Roma Sì veramente Mi sembra molto più grosso Sì ragazzi Io ho visto soltanto Quello stadio olimpico E poi insieme a te Tra l'altro L'Emirate Stadium È vero Eh vabbè San Siro Sì è vero Però San Siro Adesso non me lo ricordo bene Ragazzi Perché è un po' Che non ci vado Comunque niente Ce l'abbiamo fatta Cioè il principale di Stadium Beccato Da un pacchetto Di FIFA Potevamo finire In qualsiasi altra parte Non penso che si possa Si possa entrare Anche perché Come vi ho già detto È uno stadio di rugby Questo Cioè i tour eccetera eccetera Secondo me sarebbero Basati sul rugby No? Sì ma non penso neanche Si facciano i tour Degli stadio sul rugby Quindi Non lo so Non lo so Mi dispiace per questo Perché ci stavo a entrare Quella statua lì di chi è Ora guardate che bello ragazzi Si sta anche particolarmente bene Cardiff Arms Park Cos'è? Visitor's welcome Non ho ne ho idea Quindi ragazzi Anche questo video Finisce qui È stata un'esperienza A dir poco Fantastica Perché comunque La volevo fare da un po' Però sapete È un po' togliersi Della propria zona di comfort Quello che ho fatto Ed è Secondo me Il modo migliore Per finire questo 2019 Che personalmente Mi ha fatto cambiare un sacco Il cambio di casa Qui su youtube Siamo cresciuti E varie cose Comunque anche mie Personali E quindi volevo finire Questo 2019 In grande stile Con una sfida mia Personale Appunto Prendere e andare Dove Dove il destino mi manda E dove appunto In questo caso FIFA Ci manda Niente Come potete vedere Siamo ancora qui Dietro al principale di stadium Quindi Diciamo che la missione È compiuta Io ragazzi Vi invito a iscrivervi al canale Cliccare un bel mi piace Commentare qua sotto Con Facciamo così I vostri buoni propositi Per il 2020 Noi comunque Ci vediamo Se non No domani non penso proprio Ci vediamo verso il 2 Quindi Pushate bene questo video Condividetelo a tutti i vostri amici Seguitemi su instagram Taggatemi su instagram Che vi riposto E niente ragazzi Un bacione Buon 2019 E ci vediamo Grazie per essere stati con me Anche quest'anno Ciao ragazzi Ah comunque ragazzi Abbiamo appena comprato La palla con tutte le firme Del Liverpool Quindi state sintonizzati Sul canale Cliccate la campanellina Perché Arriveranno anche i video Di calcio qua A Cardiff Ciao